E mentre camminavamo armati a di tutto punto per annientare mammoni che infestavano il campo di Piselli e Antonio, ecco venirci incontro Donato e la sua gente. Donato, che piacevole sorpresa! E' un'annata piena di sorprese, Toro. Ma ci fai? Ma tu stai qua? L'assaggio, l'assaggio! Silenzio lì! Avevo consigliato a un mio amico di venire a Zollina a prendere un po' di legumi. Se sono i legumi che cercavi, potete unire gannotti. Ma pensavo li avessi già dati al mio amico Pantaleo? Ma è da parecchio che è partito verso lì! Non ne sappiamo nulla! Tu lo conosci Pantaleo? E' il mio cognato, signore! E tu, biondone, lo conosci Pantaleo? E' il mio cugino, signore! Cugino! E tu? Mi non sono di qui! Pagnoni! Avete visto Pantaleo? No! 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 Ma non domina a me tu la cisterna, c'è tu! Magari ti sbaglio! A Zollino non l'ha visto nessuno! Grazie! Grazie! Grazie!